Stop al progetto di tassazione delle seconde case francesi di proprietà di cittadini non residenti. Un'idea che ha provocato l'ira dei sudditi di sua maestà britannica e che avrebbe portato nelle case del tesoro una somma tutto sommato abbastanza bassa, pari a poco più di 170 milioni di euro. Adesso il problema è di trovare una soluzione finanziaria al piano di riforma sull'imposta sulla fortuna.